Routing con RabbitMQ. Ciao, io sono Michele e in questo video andiamo a vedere una tecnica di instradamento di messaggi con RabbitMQ chiamata routing, cioè l'instradamento di messaggi secondo determinate regole. Andiamo a vedere. Nel video precedente abbiamo imparato il concetto di publisher e subscriber, cioè tutti i consumatori iscritti a un determinato exchange hanno la loro coda e ricevono una copia esatta del messaggio pubblicato nell'exchange da parte di un produttore. Questo sì può essere utile in tanti contesti ma ha una flessibilità limitata perché la configurazione che ci permette di fare questo su RabbitMQ si chiama fan out dell'exchange e è abbastanza stupida, cioè pubblica e moltiplica i messaggi su tutte le code che sono iscritte in maniera indiscriminata. Se volessimo fare qualcosa di più articolato, come stiamo per fare, quello, il fan out, non è la configurazione che cerchiamo. Immaginiamo per esempio, sempre ripescando dal video precedente l'esempio dell'abbonamento ai topolini, che abbiamo gli interessati ai numeri pari e ai numeri dispari. Ecco che configurando un exchange in maniera diversa possiamo consegnare a delle code i numeri pari e ad altre i numeri dispari. vediamo meglio. Ok, allora questa è la situazione. Abbiamo un publisher che pubblica su un exchange i nostri numeri di topolino e vogliamo che i pari e i dispari vengono instradati su code diverse. Così, prendiamo questo e abbiamo questo. Di qua, da una parte abbiamo i pari e da una parte, lo scriviamo, abbiamo i dispari. E queste sono le nostre code dove abbiamo i consumatori in ascolto. Ecco qua, disegno completo. Nulla vieterebbe di avere una configurazione di questo tipo, cioè esattamente magari duplicata, dove sono due a essere interessati ad avere i numeri dispari. Ok? Quindi anche questa è una configurazione valida. Non devono essere tutti diversi, ma possono esserci anche di più o tutti uguali. L'exchange andiamo ad utilizzarlo in configurazione type uguale direct. Cioè, è molto semplice, fa una consegna diretta alle code la cui routing key corrisponde alla routing key del messaggio. Andiamo subito a realizzare un esempio funzionante. Prima di tutto faccio partire la mia istanza di Rabbit&Q dentro un container, utilizzo la mia istruzione Docker Run, espongo le porte, quella per i messaggi 5672 di configurazione portale web 15672, il mio volume e l'immagine Rabbit&Q 3812 con il management, il container è partito e mi posso collegare già dal web. Ok, questo è il mio Rabbit Exchange, non c'è il mio Exchange Topolino, vado ad avviare i programmi. Quindi faccio partire il publisher, aggiungo, no, debug, avvio e potrei scrivere i numeri, ma non essendoci sottoscrittori o consumer in ascolto, non verrebbero consegnati. Quindi faccio subito partire, debug, un ascoltatore e metto i pari. A questo punto riapro il mio produttore, scrivo numeri e vediamo come vengono consegnati, vengono ricevuti a destra solo quelli pari. Ne faccio partire un altro, debug avvia, scrivo dispari, lo mettiamo qui così si vede bene, faccio ripartire dall'altra parte, metto anche bene questo e poi metto bene pure questo. Quindi comincio a scrivere e vediamo come i dispari arrivano a in basso a destra e i pari in alto a sinistra. Bene, andiamo a vedere il codice che ho aggiornato su GitHub, metto il link in descrizione, così si aggiunge all'esempio del video precedente dove abbiamo fatto publish e subscriber, facciamo routing. Quindi questo è il mio publisher che chiede in riga 11 di scrivere appunto dei numeri, noi dobbiamo qui avere, non è molto a prova di controllo di input, quindi se scriviamo lettere si spacca e dobbiamo solo scrivere dei numeri, che cosa fa? Apre la connessione come al solito e dichiara un exchange, questa volta si chiama sempre topolino perché è un exchange di numeri di topolino, qui siamo abbonati, e di tipo direct, abbiamo cambiato da fan out dell'esempio precedente, qui anche sarebbe da aggiustare il commento in questo modo. Ciclo infinito per continuare a convertire i messaggi, i numeri scritti in input, che cosa faccio? Leggo il messaggio, se questo è pari scrivo che è, lo vado a mettere, gli vado a mettere la routing key pari, altrimenti dispari, mi scrivo pari e dispari in stringa qui, in questa variabile, codifico il messaggio in un array di byte e con basic publish lo vado a pubblicare nell'exchange dichiarato prima con la routing key calcolata poco fa, quindi i numeri pari avranno scritto la parola pari e i numeri dispari vanno scritta la parola dispari come routing key. E basta, poi non ci sono altre proprietà particolari, questo è il body del messaggio, appunto l'array di byte e una conferma che è stato inviato. Andiamo a vedere il subscriber, il subscriber anche lui ha sempre l'exchange topolino in direct, così se non c'è viene creato, scrive e chiede subito appena partito, in riga 14 e 15, la routing key a cui siamo interessati. Come per l'esempio precedente, vado appunto a dichiarare all'exchange e dichiaro una coda con nome random perché ogni client, ogni consumatore ha la propria coda e deve avere un nome univoco. In questo modo andiamo a generare un nome random. Faccio il bind di coda all'exchange, quindi dico che collego la mia coda con questo nome a quell'exchange, in particolare utilizzando la routing key specificata dall'utente, appunto specificheremo, io nell'esempio specificavo pari o dispari. Mi metto, faccio la scritta waiting for topolino, ok, che aspetto i miei numeri, configuro il basic consumer, appunto che è quell'oggetto, quella classica, che mi permette di stabilire come comportarmi quando ricevo un messaggio. In questo caso niente di particolare, codifico un ready byte in un test UTF-8 e lo vado a scrivere in console. Qui mi dichiaro, voglio consumare il canale con un basic consume sulla coda dichiarata poco sopra, col mio nome univoco, auto acknowledge del messaggio e il consumer appena dichiarato qui. Quindi questa istruzione è quella che effettivamente si aggancia al canale con il rabbit in queue con tutte le configurazioni, la coda e il consumatore, quindi specificato che cosa deve fare quando il messaggio viene ricevuto. Questo è quanto ci permette di realizzare l'esempio visto poco fa. Per quanto riguarda il rabbit in queue e l'implementazione del routing, oggi ci fermiamo qui. Mi raccomando vai a vedere gli altri video su rabbit in queue, se per caso non li hai ancora visti, se hai imparato qualcosa e il video ti è piaciuto iscriviti al canale così sarai notificato sulle nuove uscite. Ciao!